Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò a customizzare per voi una cover. Gentilmente mi invito tutti a iscrivervi al canale e a mettere un bel mi piace sotto al video. Se avete domande da fare non esitate. Spero che vi piace questo video. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!